buongiorno buongiorno eccomi di nuovo a voi bentornate bentornati alle persone che mi seguono già da un po benvenuti e benvenute alle nuove persone io sono Antonella Marinelli e questo è il mio canale il mio canale in cui parlo non solo del mio lavoro ma anche diciamo della mia vita in genere perché come dicevo come dico sempre a tutti i video il mio lavoro è un po anche il mio stile di vita quindi è facile che le cose si intersecano tra di loro per chi ancora non mi conosce io di lavoro diciamo che più o meno sono una sarta e maglierista però faccio anche altre cose diciamo quindi mi occupo anche di tintura diciamo tutto quello che riguarda il mondo dei figli e dei tessuti e faccio anche corsi ovviamente per divulgare il verbo naturalmente quindi sia corsi per principianti per chi vuole approcciare per la prima volta diciamo in questo fantastico mondo e magari anche corsi per chi già già fa qualcosa ma vuole migliorare vuole approfondire una tecnica e altro e questo sia per quanto riguarda il mondo della sartoria che il mondo della maglieria naturalmente e proprio in questo video vi voglio parlare di un corso che sto lanciando in questi giorni e diciamo che è un approfondimento all'evento che ho mandato già in rete diciamo tramite i vari social e quindi diciamo è un appendice ecco all'evento il corso che di cui vi sto per parlare è un corso diciamo approccio alla lavorazione con i ferri circolari lo terrò il 4 di marzo dalle 9 e mezzo alle 12 e mezzo di mattina il 4 marzo è un sabato e lo terrò in un posto bellissimo in un locale diciamo bar caffetteria libreria si chiama libera mia e si trova all'aquila in via degli scardassieri vi metterò naturalmente tutte le info nell'info box vi metterò tutte le informazioni necessarie e quindi come vi dicevo in questo video vi parlo un po di che cosa si tratta per le persone che magari ancora non o per timore o perché non hanno mai avuto l'occasione insomma ancora non approcciano appunto la lavorazione con i ferri circolari i ferri circolari che sono questi qui diciamo questo è il modello base dei ferri circolari naturalmente ce ne sono tantissimi in commercio ci sono anche con diciamo le punte che si possono cambiare e i cavetti di varie misure questo è un cavetto standard quello da 60 centimetri ci sono anche cavetti più lunghi da 80 ma anche più corti per per fare le cose per lavorare in tondo con diciamo gli manufatti più piccoli tipo cappelli tipo calzettoni guanti eccetera in quel caso le punte sono anche più corte ovviamente ma di questo magari ne parleremo al corso perché oltre a diciamo a iniziare proprio la lavorazione diciamo all'inizio dell'incontro comunque vi farò una panoramica generale per quanto riguarda questo bellissimo mondo e per i ferri circolari se c'è una persona che dobbiamo ringraziare è naturalmente elisabeth zimmermann grazie e al suo odio per la lavorazione con i quattro ferri o con il gioco di ferri come si usa chiamarli oggi e diciamo che lei ha messo a la lavorazione con i ferri circolari ed è stata veramente una svolta nel mondo del lavoro a maglia quindi ecco questo corso è giusto un approccio ai lavori con i ferri circolari quindi diciamo non vi spaventate e se volete entrare in questo mondo questo è il corso che fa per voi oserei dire naturalmente ovviamente non faremo una maglia perché insomma con tre ore capite bene che non ci può fare una maglia però lavoreremo con le misure in scala ridotta in pratica in questa maniera in tre ore riusciamo a fare un golfino quindi che poi adesso vi farò vedere per cui se avete intenzione di partecipare a questo corso vi dovete procurare un paio di ferri circolari che oltre che alle mercerie li trovate insomma a qualunque negozio che abbia lo spazio bricolage diciamo bricolage lavori manuali quindi un paio di ferri con le punte io non vi consiglio le punte tanto grandi ma neanche quelle sottili sottili questo è un numero 4 e mezzo 4 e diciamo che questo potrebbe essere la misura giusta massimo 5 insomma non prendete quelle grandi che non ne vale la pena e un filo 50 grammi almeno di filo io ho usato questo di lana e diciamo che per i ferri che ho adoperato io questa è la misura giusta diciamo un filo medio una grandezza media io lo chiamo filo perché voi potete insomma portate un filato con cui vi trovate bene a lavorarci non prendete filati pelosi perché se è la prima volta che lavorate con i ferri circolari magari i filati pelosi vi possono intralciare oppure con paillettes e cose del genere insomma prendete un filato normale questa è lana e pura lana io generalmente utilizzo questa però voi naturalmente abbia scelta quindi come vi dicevo lavoreremo a scala inizieremo una maglia aperta davanti top down perché aperta davanti perché chi non è abituato a lavorare con i ferri circolari per per iniziare una maglia senza cuciture c'è una tecnica particolare che si chiama magic loop ma per chi ancora non ha padronanza dei ferri è un po' prematuro iniziare a fare questa cosa poi magari vi spaventate e non la prendete più in mano quindi ho deciso di fare una maglia aperta comunque lavorando sempre con i ferri circolari sebbene la lavorazione andrà fatta in ferri di andata e ferri di ritorno ma in questo modo vi renderete conto di come tenere i ferri in mano di come lavorare con la tecnica per esempio continentale quindi con la mano sinistra anziché con la mano destra come siamo abituati noi italiane a lavorare e quindi già questo è un'esercitazione quello che faremo io ho fatto diciamo la mia il mio golfino a scala questo è un golfino aperto quindi come potete vedere non ha le cuciture quindi ho iniziato dal collo a lavorare e sempre in giri di andata e di ritorno ho cominciato a farci gli aumenti delle maniche per cui si inizia a lavorare dal collo si contano bene le maniche quindi i punti da i punti da montare quindi il corso inizierà con fare il campione il campione è una cosa che odiano tutti però bisogna farlo quindi dal campione riusciamo a capire quante maglie ci vanno in determinati centimetri quindi decidiamo come fare diciamo la scala ridotta del nostro golfino e cominciamo a montare le maglie per cui secondo le maglie che mettiamo per il collo possiamo decidere le maglie da lasciare per le maniche e per il davanti che tendenzialmente è come il dietro poi alla fine quindi il corso partirà proprio da dal campione prova e da quante maglie montare da come si montano da come si contano eccetera quindi questo è bisogno farlo per cui inizieremo dal collo quindi vedremo come si gestiscono gli aumenti e sempre perché è un incontro diciamo di approccio ai lavori a ferri circolari gli aumenti li faremo a vista quindi con maglie gettate naturalmente ci sono altri modi di fare gli aumenti e altri modi di fare le maniche ai modelli top down ma questo è il modello proprio basico quindi si inizia da qui dopo che si è iniziato da qui naturalmente ci si possono fare le varianti possibili quindi ecco noi faremo un golfino di questo tipo poi naturalmente una volta che avete fatto il golfino su scala ridotta lo potete riportare alle vostre misure e sbizzarrirvi con filati colori e modelli che volete quindi arriviamo fino a diciamo all'ampiezza necessaria della manica dopodiché si chiudono le maniche quindi vi farò vedere anche come si chiudono le maniche e come si continua la lavorazione continuando la diciamo il circolo del golfino quindi ecco faremo una cosa di questo tipo questo è naturalmente ecco ripeto è un golfino a scala ridotta ed è il modello base della lavorazione top down poi ci sono altre regole e altre cose da osservare andando avanti con il lavoro quindi se volessimo farlo jacquard con il cambio di colori con alcuni motivi con il lace come volete però diciamo si parte sempre da qua si parte sempre dal modello base una volta che si è preso mano con il modello base allora possiamo diciamo andare avanti e imparare altre tecniche di lavorazione top down top down vuol dire che inizia dal collo e finisce giù c'è anche il bottom up che inizia da dal giù e sale su fino al collo quello è un altro tipo di tecnica quindi che dirvi se vi ho incuriosito abbastanza fatemelo sapere se siete in zona insomma vi ricordo il 4 marzo all'aquila da libera mia in via degli scardassieri che sta in centro e comunque le informazioni le troverete nell'info box vi ripeto oppure se magari abitate in altri posti e comunque vi ho incuriosito e magari volete farlo fatemi sapere perché a volte per i corsi mi sposto anche io per cui se mi fate sapere dove siete se non abitate troppo lontano dall'aquila diciamo attorno al raggio di 50 chilometri mi posso spostare per cui ah poi per esempio il venerdì in ogni caso sono in zona pescara chieti pescara perché il venerdì come chi mi segue già da tempo sa sono nella sede di rete 8 per un programma che si chiama rete 8 matinè che va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 10 e mezzo all'una e mezzo e alle 13 e 30 e io il mio spazio è a mezzogiorno anche lì ho il mio spazio maglioso quindi anche lì vi spiego un po' di tecniche vi faccio conoscere qualcosa per cui se volete seguirmi anche su rete 8 matinè il canale sul digitale terrestre è il 10 però c'è anche il streaming sul sito www.rete8.it oppure registrato sul canale youtube di rete 8 ci sono tutte le puntate di rete 8 matinè che volta per volta le pubblicano registrate quindi anche lì per cui diciamo siccome venerdì sto appunto chieti quindi in zona chieti pescara o venerdì pomeriggio o la giornata del sabato comunque sto lì per cui se abitate in quelle zone e vi fa piacere fare questo corso con me basta che me lo facciate sapere e ci organizzeremo di conseguenza quindi che dirvi mi auguro ripeto di avervi incuriosito abbastanza e mi auguro di vedervi il 4 di marzo da Libera Mia e poi vediamo da cosa nasce cosa vediamo che cosa verrà fuori da questo magari ecco vi entusiasmerete ed entrerete nel bellissimo mondo dei ferri circolari quindi che dirvi non mi rimane che augurarvi una buona creatività e buon filo come sempre grazie